Ciao a tutti, da Nicola Pretti, Architettura Sostenibile, ecco qui dentro siamo nella parte interna di questo super bonus 110 qui abbiamo tolto tutti i massetti, qui andremo a mettere il riscaldamento radiante a provimento con una nuova centrale tecnica fatta da una pompa di calore un'altra particolarità che si può notare qui è abbiamo tolto le cornici in modo da poter mettere l'isolamento a cappotto che si è potuto vedere nel video precedente qui abbiamo liberato tutte le stanze pulite dal pavimento al massetto nella zona giorno e anche, ecco qua, e anche nella zona notte nella zona notte, eccola qui, anche qui si sta procedendo alla pulizia questo è il materiale che formava appunto il sottofondo che va rimosso e pulito come sotto questo intervento appunto è formato da un isolamento tecnico in fibra di legno, naturale che ha delle caratteristiche molto importanti di isolamento in estate dal caldo e anche chiaramente in inverno ecco, dai formi di disegni con il progetto in modo che gli inglesi possano vedere sempre a che punto sono e anche andremo a sostituire infissi esistenti con i nuovi infissi più prestazionali questo lo potrai vedere nelle prossime puntate ti ricordo che la mia casa è nicolapretti.it ciao